NICOLAS Nicolas non va più a scuola praticamente da un mese. Volevo solo sapere come stai. Vorrei vivere con te. Ho provato a starti vicino. Ho provato a darti forza. Che succede? Non so che mi sta succedendo, papà. Io mi sento un completo fallimento. Quanta felicità c'era nella nostra famiglia. Non ero vicino a lui. Ancora cerchi di dimostrarmi quale padre e modello sei? Che cosa vuoi? Un applauso? È il mio bambino. Non posso abbandonarlo. Inizia. Que cosa vuoi? Che cosa vuoi?